ben ritrovati questa è vera mattina adesso ci occupiamo di covid diciannove lo facciamo per darvi ovviamente qualche aggiornamento con i dati riferiti al territorio marchigiano ma anche per eh qualche previsione se possibile farla in questa fase e allora abbiamo invitato il dottor Claudio Angelini che è direttore del dipartimento di prevenzione in area eh vasta cinque sicuramente ha un quadro comunque completo della eh situazione dato che è in contatto con la comunità scientifica allora quali sono le previsioni dottor Angelini intanto per la stagione invernale come sempre è difficile fare le previsioni come il meteo però proviamoci abbiamo abbiamo di fronte un virus che sappiamo cambia modifica si modifica le varianti circolano non circolano eccetera quindi eh dire da qui all'inverno certo stiamo andando verso un incremento delle positività una fase diciamo anche se modesta però stanno aumentando il numero dei positivi ma è qualcosa che ha a che fare con il le temperature con il fatto che non c'è più l'obbligo della mascherina i fattori sono diversi la scuola sicuramente se ci troviamo in autunno c'è un'impennata poi era prevedibile che fosse così anche perché le misure dal primo ottobre tutte le misure sono state tolte quindi è evidente come la mascherina possa aver determinato c'è una misura di contenimento importante quindi togliere il distanziamento togliere le le mascherine la ripresa dell'anno scolastico quindi significa contatti stretti tra i bambini e soprattutto poi il i trasporti quindi anche lì dei contatti ci sono dall'altra abbiamo un'altra un'altra condizione che è legata al virus è un virus questo che sta circolando che è predominante è la variante omicron è una variante che rispetto per esempio al virus originario di Wuhan ha una capacità di infettare decisamente superiore allora le domando da medico non è un controsenso però anche se poi queste sono decisioni che hanno a che vedere con le scelte del governo non è un controsenso allora eliminare l'obbligo della mascherina in determinati ambiti come quello dei trasporti per esempio ma io specie in inverno intendo mi auspicavo che venisse utilizzata anche perché poi la mascherina può prevenire anche gran parte delle malattie anche la stessa influenza può prevenire tutte le forme le malattie infettive che vengono trasmesse attraverso la nostra respirazione attraverso le goccioline di flug eccetera quindi è una buona barriera per non solo per il SARS-CoV-2 ma anche per esempio per l'H3N2 il nuovo virus influenzale o forse è corretto pensare che dobbiamo comunque convivere con un virus ormai diventato endemico ma su questo ecco si sta diciamo creando una condizione di una diciamo un credo che è sbagliato sostanzialmente ecco perché poi non vorrei che sulla stregua di questo pensiero si pensi che la vaccinazione sia inutile c'è un abbassamento di guardia e questo purtroppo comporre c'è da una parte un aspetto fondamentale che è rappresentato dalla percezione del rischio cioè oggi meno morti ci sono meno morti meno ricordi in terapie intensive però se noi consideriamo i numeri che abbiamo oggi rispetto a quelli che avevamo per esempio due anni fa certo due anni fa non lo so saremmo entrati subito in ansia in panico sicuramente perché avere 1.400 1.500 positivi nella nostra solo nella nostra provincia significava ricordi le nostre terapie intensive sature significava morti significava cose ben diverse oggi ci troviamo con questi grossi numeri alta contagiosità però una minore diciamo virulenza quindi il virus è meno diciamo letale meno determina meno meno danni all'organismo mi domando come sia possibile dimenticare così in fretta a fronte di oltre 130 mila morti se non sbaglio esattamente esattamente in italia dimentichiamo in fretta si dimenticano in fretta e questo purtroppo comporta questo c'era la necessità la volontà proprio di tutti noi di tornare alla cosiddetta vita normale però io penso sempre che anche il buon senso possa essere adottato in certe circostanze come per esempio continuare a mettersi la mascherina nei momenti di sovraffollamento quando non c'è possibilità di distanziamento sociale insomma dei messaggi che arrivano da tutti anche la scienziata la capua dice sostanzialmente io mi metto la mascherina quando mi trovo in un locale affollato certo allora parliamo di vaccinazione anti covid le domando intanto se sono riprese no le somministrazioni e quindi se c'è una maggior richiesta ultimamente sì sta aumentando sta aumentando la richiesta è evidente che anche a livello nazionale come a livello regionale e anche a livello locale la vaccinazione la famosa quarta dose la seconda dose booster quest'estate è stato un flop perché sappiamo che le vaccinazioni fatte sotto l'ombrellone non hanno dato mai esito positivo e la copertura oggi come oggi è molto bassa si parla di un 17 per cento degli individui a cui dovrebbe che dovrebbero sottoporsi alla quarta dose quindi oggi abbiamo a disposizione diciamo due vaccini efficaci efficaci anche nei confronti della variante omicron quindi io esorto chi rientra in quel gruppo perché poi la vaccinazione sappiamo da se prendiamo l'età da 60 anni in su poi nei soggetti sopra 80 anni ma tutti i soggetti con patologie è evidente che necessitano di vaccinazione a chi adesso è fortemente raccomandata la vaccinazione anti covid ma la va alle persone fragile alle persone fragili e alle persone anziane soprattutto proprio perché hanno un sistema immunitario che non è efficace come nel giovane quindi over 65 beh guarda dal diciamo da 60 in su da 60 in poi quindi poi la necessità appunto ecco ripeto di prenotarsi tra le altre cose noi nella nostra provincia abbiamo i due ancora centri di vaccinazione uno ad Ascoli una a San Benedetto Ascoli le aperture sono il martedì e il giovedì mentre a San Benedetto lunedì e il mercoledì quindi prenotarsi sempre con il solito sistema quello regionale per cui se non mi prenoto e mi presento per ora abbiamo rispinta o per ora abbiamo utilizzato cioè abbiamo dato l'accesso libero perché i numeri si erano bassissimi sì quindi però adesso visto che stanno crescendo e considerando che la forza lavorativa è sempre minore perché dopo il 31 marzo dopo la la fine praticamente dell'emergenza poi il personale non c'è stato più dato per poter far fare però sono proprio gli anziani no poi parliamo della popolazione che adesso è fortemente raccomandata la vaccinazione ad aver lamentato difficoltà nel prenotare perché magari non avvezzi allo strumento web ecco e quindi ricorrono all'ausilio dei propri familiari figli amici eccetera c'è un altro modo ma il problema purtroppo oggi stiamo andando verso la digitalizzazione quindi è un problema generale perché per esempio per lo speed per ormai anche le persone a certa età sono tutte super connesse per carità però parlo per quella piccola minoranza che magari io mi trovo ancora fatica ecco mi trovo a fare i certificati per i doni da la guida per le patenti e attualmente bisogna fare col pagopà ma non è che la persona dei 70 anni ha problemi a problemi anche la persona ai 40 anni quindi cioè per dire che le difficoltà purtroppo in un mondo tecnologico si ritrovano per forza bisogna bisogna adeguarsi allora lei mi diceva ci sono due centri due hub ad Ascoli a San Benedetto occorre prenotarsi adesso i numeri consentono ancora di accogliere anche chi non è prenotato però insomma l'andamento sarà si spera tra l'altro diverso nel corso dei prossimi mesi andiamo però dottore a vedere come sta andando all'hub di Pesaro con il nostro Thomas del Bianco che proprio sul posto e ci fa il punto della situazione Thomas a te buongiorno Stefania buongiorno ai telespettatori di vera mattina come potete vedere anche dal cartello alle mie spalle siamo proprio all'ingresso del nuovo hub vaccinale di Pesaro Pesaro per tre mesi è rimasta senza un punto vaccinale in precedenza abbiamo fatto anche tanti collegamenti tanti servizi con il nostro telegiornale il punto dei vaccini si trovava all'ex Ristò all'interno del centro commerciale Rossini Center alla Torraccia poi è stato chiuso per altre esigenze di quegli spazi è stata una lunga ricerca da parte dell'area Basta 1 di un nuovo hub anche alcuni problemi alcuni ostacoli e alla fine si è arrivati a individuare questo spazio questo spazio in una zona eh artigianale anche di facile accesso è iniziato il 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 periodo delle somministrazioni già la terza seduta eh nella prima seduta ci sono stati in media eh novanta cento persone che eh sono venute a vaccinarsi oggi abbiamo parlato eh proprio pochi istanti fa con il medico referente del lab ci sono duecentocinquanta persone prenotate inoltre vengono accettate anche eh le persone eh che eh arrivano senza eh eh prenotazione prevalenza quarta dose quarta dose che viene è somministrata a tutta la fascia di età dai dodici ai eh dai dodici anni in su e non più soltanto eh agli over sessanta e alle persone fasi di questo perché eh sono arrivati ormai da fine settembre eh nelle Marche e anche qui eh è disponibile in prevalenza il vaccino eh aggiornato alle ultime il vaccino bivalente aggiornate le ultime varianti eh omicron che viene somministrata proprio al punto eh di via Toscana nel quale eh ci troviamo quindi c'è un'affluenza in crescita anche se eh la quarta dose eh non non ha ancora una grande diffusione nelle Marche eh abbiamo visto che da quando nei primi giorni successivi proprio all'apertura delle prenotazioni sul sito della regione Marche c'erano state poche prenotazioni poco più di mille sicuramente non una non una ressa e i dati indicano che ci sono ancora eh circa eh cinquecentotrentamila marchigiani marchigiani che potrebbero eh effettuare la quarta dose ma che ancora non l'hanno fatto. Per il momento è tutto vi restituisco la linea. Avere eh una fetta della popolazione per nulla mai vaccinata no? Eh costituisce un freno alla lotta al virus? Sicuramente sì perché si creano quelle cosiddette sacche di suscettibili che potrebbero chiaramente conservare il virus quindi non andremo mai all'eliminazione del virus ma cerchiamo di contenere la la malattia cerchiamo di contenere il covid-19 e fino a quando ci saranno dei soggetti suscettibili il virus circolerà e circolando il virus poi darà origini a delle varianti. Eh il collega parlava del problema legato agli spazi no? Da da individuare in nel territorio di Pesaro. È stato così anche nel Piceno e pensate ad eventuali eh sedi nuove? Beh all'inizio abbiamo avuto diversi problemi nel momento in cui ci siamo a San Benedetto perché ad Ascoli tutto sommato eh abbiamo iniziato con la Casa della Gioventù poi siamo andati alla palestra Monticelli poi siamo ritornati alla Casa della Gioventù e a San Benedetto dopo che abbiamo dismesso il lab al centro agroalimentare abbiamo avuto un po' di difficoltà i numeri erano bassissimi di richieste di vaccinazione per cui avevamo approntato quella struttura semimobile di fronte al pronto soccorso. Adesso bisogna risparmiare con il caro energia. Sì. Tenere in piedi una sete molto grande se poi non viene no? Esatto perché è un diciamo non possono essere considerati dei veri e propri punti di vaccinazione della popolazione o vaccinazione di massa perché qualora fossero significa cioè hanno una finalità quella di vaccinare un gran numero di persone in un breve periodo di tempo. Qui noi abbiamo fatto un grosso diciamo punto vaccinale ecco quindi ci siamo trasferiti lì in via Veneto e i locali sono sono adeguati per lo meno per i numeri che abbiamo oggi. Che significa vaccino bivalente? Allora il vaccino bivalente significa che ha due componenti antigeniche eh cioè contiene gli antigeni che sono quelli che poi stimolano il nostro sistema immunitario a produrre gli anticorpi. Uno è quello del virus originario quello del virus di Wuhan per intenderci quello per cui ci siamo vaccinati noi e l'altro invece è l'antigene appartenente alla variante Omicron. Eh questo è la bivalenza. Noi abbiamo praticamente due tipologie di vaccini bivalenti. Uno appunto questo eh in cui è ricompresso alla variante eh eh B A1 Omicron B A1. Poi ce n'è un altro che sono state inserite delle sotto varianti della B A1 che sarebbe la B A4 B A5. Quindi anche se eh molti hanno aspettato poi tra l'altro a vaccinarsi proprio perché già da dall'inizio anno si parlava di un possibile vaccino che contenesse le varianti. Ma noi corriamo sempre dietro al virus. Sì ma le persone aspettano però il prossimo vaccino. Quando arriverà? Ma il prossimo vaccino quello con le due varianti già ce l'abbiamo a disposizione. Quindi lo stiamo già somministrando. Quello su Omicron 5? L'Omicron sì perché l'Omicron adesso è la variante è predominante. È il virus che circola. Ehm la variante la subvariante B A5 è quella quella più rappresentativa. Però il sia prima che venga licenziato un vaccino eh passa a diverse fasi per cui c'è stata l'approvazione dell'EMA c'è stata l'approvazione dell'AIFA e che hanno sostenuto sostanzialmente che i due vaccini sono equivalenti quindi danno la stessa risposta. Per cui anche il vaccino con la B A1 Omicron B A1 è in grado di coprire le sottovarianti della B A4 B A5. I ragazzi che vanno a scuola vanno vaccinati? Sì. Ma sì 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 sì. Ritorniamo al solito discorso. Qui l'unica cosa l'unico strumento che oggi c'è rimasto è la vaccinazione. Quindi tolte le misure che poi ripeto la mascherina, il distanziamento è rimasto per le scuole soltanto la la reazione dei locali che poi diciamo ha un impatto relativo sulla circolazione del virus. Quindi togliendo tutte quelle che sono queste misure è bene vaccinarsi perché poi è l'unico strumento che ci permette di tutelarci almeno di evitare quelle forme gravi perché questo è un concetto importante perché ci si può rinfettare nonostante la vaccinazione nonostante aver fatto la la malattia ma il 20 per cento per esempio è suscettibile alla reinfezione. Un consiglio per chi ci ascolta da casa lei prima diceva in estate c'è stato quasi uno stop alla vaccinazione no? Quindi molti sono rimasti alla prima dose booster che hanno ricevuto tra dicembre gennaio o febbraio a cavallo appunto tra i due anni appena trascorsi. Le vorrei chiedere quindi chi ha fatto la prima dose booster a inizio anno o a fine dell'anno precedente quando deve ricevere la seconda dose booster? Sì allora l'indicazione è che deve essere somministrata almeno che siano trascorsi 120 giorni quindi qualunque momento è buono dopo che siano trascorsi quattro mesi quindi sia che ha avuto l'infezione sia dall'infezione che dalla vaccinazione sia stata la vaccinazione prima dose booster o anche il ciclo completo la seconda dose dei vaccini a doppia dose dopo 120 giorni può essere fatta. Ma è meglio aspettare qualche altro mese oppure perché noi sappiamo insomma che sulla durata sono i primi mesi no quelli che ci garantiscono una copertura più incisiva? Sì però noi stiamo rincorrendo un virus ci ritroviamo il terzo anno terzo inverno a rincorrere un virus quindi ora abbiamo queste varianti non è detto che ce ne siano altre quindi andremo sempre alla ricerca di un vaccino che possa coprire per la prossima variante cioè io adesso dico le persone fragili le persone anziane in maniera particolare sì è vero ha detto il cronista lì dal 12 anni in poi però chiaramente noi nei soggetti fragili soggetti ricoverati nell'RSA per esempio oppure anche gli stessi operatori sanitari c'è la forte indicazione della somministrazione della quarta dose proprio per evitare insomma che ci siano queste forme gravi oggi abbiamo un incremento e c'è stato un incremento devo dire anche nella nostra realtà non tanto nell'intensiva perché noi ci aggiriamo sempre a un caso due casi al massimo però nel nel ricovero e decenza ordinari abbiamo avuto un lieve incremento. dottore un'ultima cosa sull'influenza lo scorso anno sembrava fosse sparita per sempre probabilmente complice l'utilizzo delle mascherine quest'anno invece è ripartita la circolazione di virus che già insomma riscontriamo in queste ultime settimane che influenza ci aspetta ecco perché dicono che è particolarmente forte ecco il virus è stato come come avviene ogni anno prima si presenta nell'emisfero australe poi viene da noi quest'anno in australia è stato proprio isolato il virus h3 n2 che è un virus che ha sempre creato un po' dei problemi da un punto di vista clinico rispetto all'h1 n1 che è quello più frequente sicuramente i classici sintomi dell'influenza malessere generale febbre artralgie emialgie da allora si può comparire anche con disturbi gastrointestinali è pur vero che circolano e circolano tutto l'anno i virus cosiddetti simil influenzale le ili quindi se d'estate uno ha dei sintomi tipici dell'influenza probabilmente è un virus simil influenzale quindi ecco ci troveremo in attorno io ho sempre definito una situazione un po' particolare perché potrebbe essere configurata come la tempesta perfetta perché già abbiamo il virus influenzale abbiamo il sars cov 2 tutti a fare il tampone farmaci piene nelle varianti e se poi ci si aggiunge anche la circolazione dello pneumococco che è responsabile delle polmonite acquisite in comunità avremo lo scontro di questi tre microbi le consiglia il doppio vaccino sicuramente sì ecco è l'occasione opportuna la vaccina la quarta dose e contemporaneamente nella stessa seduta può essere cosomministrato il vaccino antifluenzale si possono ricevere entrambi si possono ricevere contemporaneamente sì grazie al dottor Claudio Angelini direttore del dipartimento di prevenzione in area vasta 5 grazie davvero dottore noi ci fermiamo per qualche minuto e ripartiamo come la mattina rimanete con noi da 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 Grazie a tutti.